Un altro terremoto in Puglio, una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata poco dopo le ore 9 di martedì 18 aprile nella zona di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. Secondo una prima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si è verificata una profondità di 25 km. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone della regione. Al momento non si registrano danni.